Sierata una tra maschietti Ci siamo mangiati il mech E dillo agli amici Hai i tuoi follower e dillo Che ti sei mangiato tu? Eh amore? Prendi il topolino Prendilo papà Cacci il topolino Prendi il topolino Prendi il topolino Sta incazzato nero Quanto mi amo È un bambino Gli manca la parola Ci sono Ma andiamo a fare nina Io ci tenevo a dire una cosa Che secondo me Le vere dimostrazioni d'amore Non sono Avere sempre Per forza nella vita Un comportamento Perfetto Date meretta a me Perché i santi stanno in paradiso E nella vita Si sbaglia tutti Ma le vere dimostrazioni d'amore Sono queste Un'ora di traffico Per andare a pia Alle 8 di mattina Ma chi cazzo lo faceva? Io voglio sapere Chi lo faceva Ho detto questo Bigelona prepara di Che sono 4 giorni Che non ti vedo Sono in vena di coccoline Buongiorno ragazze Io sono appena arrivata a Roma Questo è macchina E vi volevo parlare Della promozione di Hello Body Del set Detox & Slim Che comprende L'olio E la maschera Ragazzi dicevo Se acquistate il set Detox & Slim Ne avrete un altro in omaggio Contate che sono già scontati Del 30% Quindi una buonissima occasione Per fare la scorta Di questi prodotti Che io da un po' Che li provo E devo dire Sono ottimi Dicevo L'olio Snellisce e tonifica E rende i tessuti Pi' elastici Mentre la maschera a viso Io la uso Per eliminare i punti neri Sul naso Anche sul mento E E Ristringe i pori Per cui Approfittate Ristrutturazioni In corso Carino questo colore Abitue Abitue Ciao ragazze Intanto mi avete scritto su Direct Per quanto riguarda i marchi Dei vestiti che porto Nelle foto Oppure nella vita di tutti i giorni E Volevo dire che è uscita Volevo informare Che è uscita una nuova applicazione Volevo dirvi Che è uscita Un'applicazione fantastica Che si chiama Ventum Button Ora vi metto Il link qui sotto E Dove vi dice Sia il marchio Sia Dove poter Insomma Acquistare il capo Sia il porto Sia guide Del portipino Term Esto Nelio Nelio Sia Guarda Carino Sia Sia Buon Sia . Sia